La rivelazione è arrivata. Manuela Arcuri svela di essere incinta del suo compagno Giovanni di Gianfrancesco e di essere molto felice. La coppia ha cercato il bimbo da oltre un anno ed ora il loro sogno è divenuto realtà. La novità è stata scoperta tramite un test di gravidanza da risultato inequivocabile. Quando il compagno è tornato a casa dopo una giornata di lavoro, ha trovato una cena romantica che Manuela aveva preparato per festeggiare l'evento. La felicità dell'Arcuri è talmente visibile che quasi non sembra preoccuparsi delle modificazioni che subirà il suo corpo. Tranquillizza il suo affezionato pubblico maschile dicendo che tra un annetto tornerà quella di sempre. Ammette, anche se in molti non se lo sarebbero aspettato a lei, di sentire già da tempo molto forte l'istinto e del desiderio di maternità, cosa abbastanza normale in una donna. Il sogno di diventare mamma del resto è comune un po' a tutte le donne, anche se nel caso di Manuela è un aspetto paconato. Si vociferava di matrimonio segreto tra lei e il compagno, dubbio che era venuto per una fedina che Manuela porta alla mano sinistra, ma non si tratta della vera matrimoniale. Tuttavia ai due piacerebbe in futuro sposarsi e metter su famiglia.